Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Warface Allora ragazzi, oggi siamo nella modalità Team Deathmatch E siamo nella mappa Trailer Park Allora, ho già fatto questa mappa Ce l'ho già giocata off camera E devo dire che non è proprio il massimo però Oddio, non è proprio il massimo però è una mappa abbastanza caruccia Allora, Team Deathmatch dobbiamo arrivare a 150 uccisioni 150 punti O se no quando scade il tempo chi ha fatto più kill ha vinto Chi ha fatto più punti ha vinto E ogni tanto passa appunto questo aereo che lascia questo fumo E tu non vedi un cacchio Dura poco però Per quel po' di tempo tu non vedi quasi niente Questo però l'avevo visto Anche se mi ha killato lo stesso Oh, ma puoi fare lo spawn killer così tu? E guarda quest'altra amichetto tu Ah no, beh Pensavo che era Un compagno Invece che è un compagno mio Pensavo che era un nemico Che armi ha Ma sta sparando in basso Sparava con l'arma tutta storta Tutti i champion Tutti i champion dentro sto gioco Tutti i campioni Spawn killer Eccolo un altro Pure io stavo a lanciare la bomba Se no questo Eh, nemmeno l'ho preso Dove è andato? Ih, mortacci Non ci si crede Eh, medic Andiamo come medico Ma non perché faccio il medico tutto carino No, c'è il pompone Andiamo col fucile a pompa E aprimo un po' Sta gente che Già mi ha rotto Qualcosa, già E vai con uno E vai con due Così Riflessi proprio Mamma mia I riflessoni Ecco Questo Stavo aspettando che scivolava quello Però a me è arrivato un compagno Perfetto Vai, vai Non mi Cioè Non lo uso molto spesso Il fucile a pompa Perché non è che mi piace Più di tanto Però È comunque Un'arma molto potente Da vicino Poi da lontano Sì Ecco appunto In questo caso Come avete visto Non so Non si vede che non lo uso molto Questo perché Sta subito qua Mortacci sua Subito Oh 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 Mortacci Così Alla testa Chi è da dietro Chi è da dietro Perché stai dietro Non esiste Non esiste Un nostro spawn Perché tanto Ce l'hanno loro Che culo Andiamo un po' Di salire qua sopra Di trovare C'è qualcuno Lo sapevo Che c'era qualcuno Eh sì Niente C'è quello sniper Quello è uno sniper pro player L'ho visto pure prima Quando ho fatto una partita Prima off camera C'è È un pro player Perché questa è la seconda partita Che sto facendo Su questa mappa Perché quella di prima Era già iniziata Mancano tipo 3 minuti Allora Allora non ho Iniziato A registrare Andiamo qua Alla c'è un po' di gente Ho preso qualcuno Ma non è morto Ho preso qualcuno Ma non è morto Che No Andiamoci la vita Fuck Ah no Compagno Mi sono cagato sotto Questo è il compagno Eh ma questo come è morto Ah Che bei camper Che troviamo qui Eh Calla Che cosa mi ha tirato Una bomba Cioè Eh non era una Eh ciao Non era una bomba normale Ma scarcagnato Ecco 610 Tutti i campioni 3548 Stiamo facendo Ce la possiamo fare Però questi Come ho detto Sono davvero forti E poi c'è quello sniper là Via 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 Sono tutti qua Tanto questi E vai Così si fa Scivolata tattica E pompone Bam Mamma mia No Se ti prendevo Quanto godevo Right Fa una doppia scivolata E una doppia uccisione Così Scivolata e pompone Infatti mi ha dato 150 punti Perché è più figa Come kill Vediamo un po' Eh guardate quello È troppo lontano Però Cercavo di Lanciare una bomba Però A quanto pare Sono molto lento A prendere le cose Di là Questo è amico Qua Che c'è qua Che hai fatto No fermo Spinto ci Qua Chi ci sta Qua Che non so Che c'è sta Amichetto nostro Qua No Quanti colpi vuoi Oh Ti ho sparato due volte Quanti ne vuoi Vuoi un terzo Un quarto Mortacci sua Tu armetico Vi è qua Ce l'ho dietro Perché ce l'ho dietro Sono appena spawnato Perché la gente fa così schifo Su sto gioco In generale Nella vita Guardate Ce l'ho tutte e due dietro Che fai tu Donna Devebbero essere Cioè proprio Bannati a vita Questi che giocano Così Basta Cioè uno Viene spawnato E poi Deve guardare Lo spawn suo Deve Eh guarda Guarda Tutti qua stanno Fanno il giretto Fanno Andiamo all'ingegnere Va C'è st'altro Col coltello No non è Non sembra un coltello Vabbè Ha fatto da doppio Un campione Vai Andiamo con questa classe Vediamo un po' Riusciamo a far qualcosa Oddio Penso che stava a spara a me Vediamo se riusciamo a far qualcosa Ok Come? Cioè Io stavo scivolando Dietro la macchina Lui è riuscito a prendermi Cioè Quello sniper è impossibile È impossibile Qualcuno arriva pure da dietro Sono sicuro Da qua No Attenzione Cambiano E sta il bastardo Eccolo L'ho visto No no Che faccio risi Mi metto contro uno sniper Pure io Da lontano Guardate questo Ma no Mentre ricarico Vai vai Chi è? Quello? Sta ancora là Ancora là Sta ancora là Ho rispinto C L'ho rispinto Di nuovo Porco Giuda Quel cecchino Riesce sempre a prendermi Che se me l'ho abbassato Tre volte Poi ho spinto Due volte C Così Ci oddio Io voglio lanciare una bomba lontano Però non ce la puoi Non ce la puoi fare Perché ti appare un nemico Guarda questo Cioè Un nemico Sempre vicino a te E quindi non hai il tempo Nemmeno di lanciare una bomba Ecco Sa già come va a finire questa cosa Sto curando qualcuno Vieni qua Tieni Ok Mettiamo Questo Ok Perfetto Mortacci Su Era passato Anche con La Claymore Però Mi sa che mi sono fatto più male io con la Claymore Che lui Cioè Io riprovo Andando da sto cecchino Del cacchio Niente Mi prende Basta È diventata È diventata una cosa personale Adesso andiamo col cecchino No Mancano 56 secondi Mancano 56 secondi Fammi spawnare Grazie Fammi spawnare Fammi spawnare No Non da dietro Rifammi Cioè Dai Sono veloci Che voglio andare a killa il cecchino Almeno una volta Ce la facciamo No Niente Tanto anche se Riuscivo a uscire Ce n'avevo una a destra Una a sinistra Quindi Mortacci loro E va Te la piante Il secchio Vai Sette secondi Oh Andiamo un po' Quanto ho fatto L'avevo letto Un 17 Sì 17 21 Fatto più Kill come il primo Poi c'è 2 hash 131 soldi Questo non so mai che cos'è la percentuale qua Non lo so mai Ah no Non lo so Vabbè 21% è verde È l'uno più alto Bene Così Ranto Quei 21 morti Finisco Finisco In negativo Sono finito in negativo E niente Cioè Leave the room Yes Usciamo Quindi ragazzi Quest'oggi Ho portato sul canale La modalità Team Deathmatch Poi Nei prossimi Episodi Di Warface Vedremo Qualche nuova modalità Quindi ragazzi Lasciate un mi piace Commentate E condividete questo video La pagina Facebook È in descrizione E anche il sito web Quindi Ciao a tutti da Blue Light